Se ci diciamo che le istituzioni hanno fatto qualcosa, altresì è vero che le istituzioni non hanno fatto tutto quello che dovevano fare, perché se no questa gente non sarebbe lì ancora adesso dopo quattro anni. Poi ci possiamo parlare di tante cose, il patto di stabilità dei comuni che è stato variato attraverso il nostro emendamento in leggi di stabilità, il fatto che questi paghino i... Stanno riposendo la rosa? L'avete variato voi? Il fatto che questi gli siano stati sospesi le tasse ma non i contributi, insomma tante altre cose. Rispetto alla situazione delle opere incompiute è sì vero, come diceva Sobella prima... Lei è sicuro vuole diventare un movimento nazionale perché la Sicilia potrebbe lasciarla fuori? Adesso se mi va a guardire, stavo dicendo proprio questo, nel senso che è sì vero da un lato che c'è la questione della programmazione ed è assolutamente certificata la mancanza di programmazione. Dall'altra parte, certificando anche alcuni scempi ambientali che sono stati compiuti in questi ultimi anni, soprattutto per le opere incompiute, c'è l'irresponsabilità degli amministratori.